Ecco Carmine Gautieri, bentrovato mister, morale è sempre alto? Ma sì, nella nostra mentalità bisogna avere sempre lo stesso entusiasmo indipendentemente dal risultato. È normale che dispiace perdere, però al calcio è anche questo, si perde anche quando non meriti. Come preparare la sfida contro una grande, contro un Piacenza che insomma la storia parla chiaro? Ma sempre con la stessa attenzione, concentrazione, sempre con la massima intensità durante gli allenamenti. Questo è un gruppo che lavora sodo, sappiamo cosa dobbiamo fare indipendentemente da Piacenza, Ferralpisalò, Spezia o Barletta. Le partite vanno affrontate sempre con la testa giusta. Le sconfitte possono fare bene? Ma fanno più bene le vittorie, però a domenica penso che abbiamo fatto una grandissima gara, abbiamo giocato per 70 minuti in ottimo calcio dove potevamo fare più di qualche gol. Abbiamo messo in difficoltà una big del campionato, questo ci fa ben sperare. Importante, ripeto, mantenere sempre la stessa attenzione durante gli allenamenti perché poi la domenica è frutto della settimana. Forfe di Turchi, gli altri, tutti bene? Bene, c'è Rosania che ha un problema al ginocchio ma il resto siamo tutti ben. Sono tornati anche i due dalla nazionale, questo ci fa molto piacere perché sono due giovani molto interessanti con grandi margini di miglioramento. Grazie a tutti.